Benvenuti arrivini, oggi splende il sole, ma quando calerà questa notte non perdete il nuovo show dei The Creatures! sostenere internazionali della musica che si seguiranno presso i studi dell'altro mondo in via Flanilla qui su Radio 98.3 FM il tempo di musica è di un nuovo fantastico disco del DJ Mike Salta direttamente dalla Danimarca questa è Pellissi a Pellissi a Pellissi a Pellissi a Pellissi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.